E parliamo della grande mobilitazione di oggi, lo sciopero generale proclamato da CGL e UIL, dalle scuole alla sanità, passando per i precari dell'università, dai mezzi pubblici, insomma gli aerei, c'è veramente di tutto, tra pubblico, insomma è anche privato questa mattina per lo sciopero generale proclamato da queste due sigle sindacali. A differenza dello scorso anno, quando l'agitazione era stata in qualche modo divisa in più giorni, stavolta insomma si è pensato ad una mobilitazione unica per tutta l'Italia in un'unica giornata, ovviamente questo blocca in qualche modo il paese, ma l'obiettivo degli scioperi quello è. Sappiamo che per il trasporto pubblico, insomma il ministro Salvini ha fatto in modo che da 8 si passasse a 4 ore, e quindi lo sciopero appunto durerà 4 ore in quel settore nello specifico, ma noi ci vogliamo concentrare su quello che accadrà a Taranto, perché anche Taranto partecipa a questa grande mobilitazione nazionale. Abbiamo in collegamento telefonico Davide Sperti, segretario generale della UILM di Taranto. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno Marina, buongiorno a te e gli amici di Radio Cittadella, grazie per l'invito. Dunque, oggi questa mobilitazione, perché è importante scioperare a Taranto? Quali sono le vertenze e i problemi più gravi per cui oggi scenderete in piazza e ovviamente ci sarà questo corteo che animerà un po' le strade del centro, con poi anche alla fine un momento di confronto tra lavoratori e rappresentanti sindacali anche nazionali? Ma intanto una breve permessa, visto che hai citato quanto è successo con la precettazione nel settore del trasporto pubblico. Io voglio ricordare, non certo a voi, ma insomma anche ai rappresentanti istituzionali, visto che si citava il vice premier di questo paese, che chi sciopera, ovviamente in questo momento ci vuole anche coraggio a scioperare, visto le sacche di povertà che ci sono, invece nel nostro territorio uno rinuncia a otto ore di salario, quindi non è che lo fa come attività ludica, lo fa per esprimere una sofferenza, lo fa soprattutto per raguardare un'idea di società che deve essere totalmente diversa, che deve essere più equa, che mette al centro la persona nella cifra proprio più intima, tutela della sua dignità, dei diritti inviolabili che sono uguali, della Valle d'Aosta alla Sicilia, almeno così dovrebbe essere in una Repubblica democratica. Quindi non lo fa per fare il ponte lungo, come cita ogni tanto il ministro delle infrastrutture di questo paese, no, quello che è fissato che l'accioio di Ilba serve per fare il ponte sullo stretto, vede ponti ovunque, chi lo fa lo fa per questi principi. Se scioperare vuol dire essere estremisti, io non sono d'accordo, ma meglio essere considerati così, se stare accanto agli ultimi vuol dire essere estremisti, che essere considerati come loro vicino ai mercati, alla finanza e alle lobby imprenditoriali. Permettimi di dire che lo sciopero è un diritto che ci siamo conquistati come paese e anche questo rientra in quelli che sono i diritti di uno Stato democratico. Quindi ricordiamolo, magari qualcuno ci sta ascoltando e non lo sa, e per te che lo sciopero sia così, una barzelletta. Esatto, se noi siamo in piazza proprio perché se esiste uno Stato sociale, che adesso il taglio della spesa pubblica che continuano a fare, specie questo governo, quindi se esiste una scuola pubblica, una sanità pubblica, se esistono le infrastrutture, l'assistenza sociale, se esistono le pensioni, eccetera, è grazie a un secolo di lotte sociali e progressi democratici, non grazie a Salvini, naturalmente. Adesso quello perché noi siamo in piazza, soprattutto a Taranto, deve essere il centro di un riscatto, perché Taranto rappresenta un po' il paese, è un laboratorio di problemi risolti, un insieme di migliaia di persone che nessuno vuole vedere, nessuno vuole ascoltare. Quindi Taranto è l'emblema di una repubblica fondata sullo sfruttamento, un insieme di lavoratori ex espulsi dal mondo del lavoro, per cui la cassa integrazione diventa molto spesso non uno strumento transitorio, ma un obiettivo in un paese che abolisce il reddito di cittadinanza, perché lo considera metadone di Stato, ma regala cassa integrazione senza prospettiva, sine die, come se fosse appunto il destino dell'essere umano e mortifica la dignità delle persone. Taranto a Taranto più di 500 attività commerciali hanno abbassato la stare cinesca nell'ultimo biennio, le riattivazioni sono meno della metà. Taranto migliaia di persone, soprattutto i giovani, recentemente hanno emigrato, una volta emigravano i nostri bisnonni con la valigia di cartone in cerca di fortuna, erano contadini, adesso sono magari i nostri figli che a posto della valigia di cartone hanno un portatile, lo smartphone e un paio di lauree e cercano fortuna se va bene al nord se no proprio all'estero. Allora è chiaro che andando avanti così il futuro è la disgregazione sociale. Poi se noi siamo in un paese dove dobbiamo conquistare un referendum abrogativo, mi riferisco all'autonomia differenziata, per ricordare a chi governa che i diritti sociali di cittadinanza non possono dipendere da dove uno nasce o da dove ha scelto di vivere. Questa è la fine, perché noi immaginiamo un cittadino tarantino che magari non arriva a fine mese, è precario perché di precarietà si muore in questo territorio, ha una famiglia, è monoreddito, non può pagarsi un mutuo perché ha le banche e non ha un contratto stabile, non può pagarsi l'affetto perché in bilancio continuano a tagliare i fondi affetti ai comuni, non può garantire la sanità pubblica ai suoi figli perché le liste di attesa per una visita specialistica basta andare al CUP, noi non abbiamo la fortuna di Salvini facendoci raccomandare da qualche primario, le liste di attesa sono lunghissime, 2 milioni di persone in questo paese rinunciano alle cure ogni anno. Davide, non ho più tempo, ma direi che i messaggi sono arrivati forti e chiari ed è chiaro anche perché anche Taranto scende in piazza al di là delle singole vertenze che ho anche citato prima di averti ospite, ma per una questione anche più larga e più importante che riguarda l'intero paese e che riguarda dove stiamo andando, la forza del lavoro Per non costruire una generazione di schiavi Marina, per non costruire una generazione di schiavi stiamo andando in un futuro che non insisterà più e noi scendiamo in piazza per questo e credo che sia un'idea nobile e va rispettata. Grazie a Davide Sperti, segretario generale della Wilma di Taranto, ricordiamo brevemente tanto siamo arrivati ai 59, quindi dico alla regia, andiamo direttamente col segnale orario e poi con il giornale. Ricordiamo da dove parte la manifestazione e dove arriva per poter ascoltare gli interventi in pochi secondi. Il concentramento all'arsenale verso le 8.45, ci sarà un corteo verso piazza Maria Immacolata dove ci sarà un comizio delle 10.30 che vedrà interventi di delegati e delegate CGL e Wilma con la censura del segretario generale, segretaria generale Wilma, Enrica Mammucari. Questa sarà la giornata di oggi.